Siamo orati Gesù e Maria, ci auguriamo un ottimo da gioia per le sorelle carissime, la solennità di Pentecoste, questa grande festa come sappiamo chiude definitivamente in tempo pasquale, sigillando al tempo stesso un punto di arrivo e un punto di partenza nella storia della salvezza, noi sappiamo che il giorno della Pentecoste, come abbiamo sentito nella prima lettura, scende lo Spirito Santo, abbiamo ora sentito il racconto della prima lettura sugli Apostoli, riuniti nel Cenacolo, guidati nella loro regiera di attesa dalla Madonna in persona e appena questo evento si realizza escono, predicano e avviene il primo miracolo che a Pietro parlava chiaramente in aramaico perché non era molto, non era un super conto e però chi lo ascoltava lo ascoltava ciascuno nella lingua, però questo è un primo prodigio, diciamo così, operato dal Signore a favore della Chiesa nascente, da quel momento che cosa succede con la Pentecoste? Con la Pentecoste si compie l'ultimo atto dell'opera colpire dal Signore, Gesù ha promesso, io adesso andrò a morire per voi, risorgerò e quando sarò salito al cielo rimanderò, abbiamo sentito anche nel Vangelo, lo Spirito Santo, perché? Perché lo Spirito Santo segna, come dire, la fine, semplicitarsi l'espressione della missione terrena di Gesù e l'inizio di quello della Chiesa. La Chiesa non fa altro nel corso del tempo e della storia che in parte fare quello che ha fatto Gesù e in parte comunicare, trasmettere quello che ha fatto Gesù con noi. Cosa fa la Chiesa? Quindi oggi è la festa della Chiesa e la Chiesa esattamente era fondata a Gesù durante il suo ministero, era uno degli apostoli, ha detto a Simone tu sei dietro e su queste pietra fonderò la mia Chiesa, quindi ha dato tutte quante, diciamo, le attrezzature di base. Il giorno del Ventecoste però la Chiesa, diciamo, viene sigillata dallo Spirito e esce allo scoperto, si manifesta, comincia la sua missione. Ora, che ci sta a fare la Chiesa del mondo? La Chiesa del mondo ci sta fondamentalmente, non per tantissimi motivi, la prima cosa che deve fare è continuare a fare quello che Gesù faceva sulla terra, cioè annunciare il Vangelo, predicare, mettere gli uomini in contatto con Dio e con il suo mistero, dette in due parole. In questo senso condivide la missione del Signore e adesso vedremo subito lo Spirito Santo e dà una grossa mano sotto questo punto di vista, perché non è facile predicare, né tantomeno è facile rimanere perfettamente fedeli alla verità. La seconda cosa che fa la Chiesa, che cos'è? Ci comunica gli effetti sardifici di ciò che Gesù ha operato e come fa a farlo? Attraverso i sacramenti di Dio e Mica. Se noi stiamo lontani dai sacramenti, tutto quello che Gesù ha fatto per noi e che ci ha trasmesso rimane inerte, inefficace. Se uno non viene battezzato, non ottiene la dimensione dei peccati. Se ho fatto un peccato e non mi confesso, i miei peccati non sono rimessi. Se sto in grazia di Dio e voglio che la grazia aumenti, voglio che la mia vita con Gesù diventi sempre più intensa, non possono ricevere l'abitudine, eccetera, eccetera. Quindi, perché il giorno di Monte Costa? Perché lo Spirito Santo abita stabilmente nella Chiesa e voi sapete che tra poco diremo che ne ne credo. Credo la Chiesa una, attenzione, santa, cattolica e apostolica. Quindi chi è che fa santa la Chiesa? Fa santa la Chiesa lo Spirito Santo. Ecco, domanda, anzi due domande. Noi ci crediamo che la Chiesa è santa. Sì, ecco, guardate che oggi nel mondo che la Chiesa è santa, ci credono in ben pochi, ma noi ci crediamo? Sì, prima domanda, questo dobbiamo rispondere al nostro cuore, come sempre. Ammesso che abbiamo risposto sì, io ci credo che la Chiesa è santa. Ci siamo mai chiesti in quel maestro che la Chiesa è santa? Sono tutti santi, i membri della Chiesa? Siamo tutti santi già, subito tutti, compresi anche qualche Ministro Sacro, preghiamo, visto che è successo la settimana, se non lo sapete meglio, insomma, no? Il Papa sta soffrendo tanto, insomma, c'è un successo delle cose abbastanza seri nella Chiesa, no? Quindi, come mai che non siamo molti santi? Se la Chiesa è santa, non lo siete mai chiesti? Perché molta gente dice, ma tutti siamo la Chiesa è santa, ma quando mai? Ma non risenti le cose che succedono? Non ho stato tutta questa gran santità. È una domanda lecita oppure no? E che cosa rispondiamo? Innanzitutto a noi stessi, perché poi eventualmente possiamo rispondere anche agli altri. Adesso, brevemente, in questo secondo sparcio di tempo che ci resta, proviamo un attimo ad approfondire questa cosa, no? Ma cosa fa lo Spirito Santo in una Chiesa? Lo Spirito Santo in una Chiesa garantisce al 100% alcune operazioni. Su queste trappellini, la Chiesa è assolutamente degna di fede. Quali sono? Numero uno, i sacramenti. I sacramenti. Tu puoi stare tranquillo che se trovi un prete che è vecchio del battesione, il tuo figlio è quel prete che usa il rituale ufficiale della Chiesa, il tuo figlio viene battezzato, non devi stare indagare se quel prete è santo o non è santo, è bravo o non è bravo, è istruito o non è istruito, non fa niente. Capite? Se un prete è con un ufficiale prete è una santa missa, tu puoi stare sicuro che sull'altare si rinnova la sacrificio di Gesù e quando fai la comunione mangi il capo di Cristo, non prendi il testo di pari. Questo non dipende, capite? Quindi queste sono operazioni che lo Spirito Santo garantisce nella Chiesa a prescindere dalle individualità e dalle umanità. Quindi i sacramenti sono la prima cosa che attesta la presenza dello Spirito Santo. E Sant'Agostino mi pare che diceva guarda che sia che ti battezza Pietro, sia che ti battezza Paolo, sia che ti battezza Giuda, o Giuda è, insomma, è l'altro tanto santo, è sempre Cristo che battezza. Quindi stai tranquilli, questa è la prima cosa. La seconda cosa, abbiamo un indizio nel Vangelo. Gesù dice che guardate, adesso vi manderò lo Spirito Santo e Lui vi guiderà tutta la verità. Cosa c'è con certezza nella Chiesa? E guardate che nessuno lo può intaccare, anche se qualche singola individualità può uscire fuori dal corpo e cantare cose strane. nella Chiesa c'è la pienezza della verità, la verità cosiddetta tutta e intera. Cioè, se io voglio sapere davvero la verità su Dio, sull'uomo, sulla sorte dell'uomo, sulla Sant'Issu, su quello che voglio, mi leggo il Catechismo della Chiesa Cattolica. Perché? Perché? Perché attraverso l'azione dello Spirito Santo viene garantito quello che si chiama il carisma certo di verità che è nella Chiesa esercitato attraverso il magistrato. quindi, quando noi abbiamo una verità di fede, adesso una verità di fede, potete stare assolutamente tranquille che quella cosa è vera, ieri, oggi e sempre. Affidabile al 100%. Sapete, quando arriva a San Giovanni Paolo II, sapete che ogni tanto, purtroppo qualcuno oggi ha inizio di cantare un po' fuori dal coro e magari disorienta qualcuno. San Giovanni Paolo II, non vi preoccupate. Allora, volete proprio sapere come sta la nostra cosa? Compratevi il Catechismo della Chiesa Cattolica. Voi sapete che ce ne sta una versione grande e una versione ridotta, che ha fatto fare a Benesco XVI, con quelle domandine le due spostine, con un tempo semplice. Quindi se uno c'ha qualche dubbio, dice, ma come mai che io ho sentito uno dice una cosa e lui dice un'altra? Via Catechismo della Chiesa Cattolica. Su qualunque problema. Leggi, vai lì e dice, leggi, e sai, e puoi stare tranquillo con quello che trovi scritto lì, e sì. Questo è garantito dallo Spirito Santo, capite? Perché il non sbagliarsi non è una cosa umana, perché gli esseri umani si possono sbagliare anche in perfetto a buona fede. Quindi il carisma certo di verità è una cosa divina e lo Spirito Santo lo garantisce. La terza cosa che garantisce lo Spirito Santo nella Chiesa è che la fa santa, qual è? È che la sua struttura, così come è voluta da Gesù Cristo, si manterrà fino alla fine del mondo. e questo è un particolare riferimento alla struttura gerarchica. Adesso non faccio cicero protomus, non vuoi vedere l'acqua? Cioè, il Papa nella Chiesa c'è nei tempi di San Pietro e ci sarà sempre. I Vescovi nella Chiesa ci sono nei tempi dei 12 apostoli e ci saranno sempre. Così come i loro collaboratori, ai tempi di Gesù erano nei 72, collaboratori dei 12, oggi sono tutti quanti i sacerdori che collaborano che viscono. Questi saranno sempre. E quindi, attenzione, il rispetto della struttura della Chiesa, a prescindere, stati attenti dalle persone scelte da Dio per occupare quei luoghi, è il sacro santo. Quindi se uno si scontrasse contro il Papato, uscirebbe veramente fuori della comunione con la Chiesa, perché il Papato è di istituzione divina. Se uno si scontrasse a dire ma io esco da che servono nella Chiesa, non scelte fuori dalla comunione con la Chiesa cattolica, perché l'Episcopato è di istituzione divina. Quindi, capite? Li assumiamo. I sacramenti, la verità del Magistero e la struttura della Chiesa sono quelle tre cose garantite dallo Spirito Santo e che conferiscono alla Chiesa la santità. In che senso? È santa nella dottrina e nei sacramenti e ha, attenzione, la capacità di santificare, quindi di farli santi. A quale condizione, però, che passiamo al secondo punto? A condizione che i figli della Chiesa vogliamo diventare santi? Perché lo Spirito Santo non c'è. È vero che nella Chiesa ci sono tante cose che funzionano proprio bene. Ma quanti santi ci sono nella Chiesa cattolica manualizzati? Lo sapete perché ce ne stanno? Tanti, eh? Quindi, è vero che nella Chiesa ci sono delle cose che hanno funzionato proprio bene. È vero anche che sono uomini e donne che hanno vissuto una vita, che sfido chiunque a vivere. Ecco perché è importante, io lo raccomando sempre, di leggere gli scritti e le vite dei santi. Capite? Allora, lo Spirito Santo funziona nei singoli, e qui passiamo un rapido accenno alla seconda lettura e concludiamo, a quali condizioni? A condizioni che i singoli lo accolgano, si lasciano santificare, cooperino con le sue azioni. Quindi, quando vediamo un Santo, noi dobbiamo sempre pensare, questo è stato fatto Santo, dallo Spirito Santo, perché lo accolto e collaborato con lui. Se vediamo uno che Santo non è, dobbiamo pensare a questo poverino, purtroppo, lo Spirito Santo e la Grazia non l'accolto. E se non accoglie lo Spirito Santo e la Grazia, Santo non ci diventi. San Paolo, nella seconda lettura, ha fatto proprio una sintesi, una chiara chiara. Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne, perché ci sono due modi di vivere, o vivere secondo lo Spirito Santo, o vivere secondo la carne, che non è soltanto la secondaria desideria della lussuria, le prime tre cose che cita sono tre peccati gravi contro il Sesto Comandamento, ma vivere in maniera carnale, vuol dire vivere come se Dio non ci fosse, cioè io vivo autonomamente, non mi importa, non riconosco che ho bisogno di Dio, della sua grazia, del suo aiuto, come se non ci fosse. E San Paolo fare l'enco, attenzione, quali sono le opere delle persone che vivono lontane dall'amore di Dio, che non vogliono lo Spirito Santo, la fornicazione, l'impurità e la dissoluzione, tre cose gravi contro il Sesto Comandamento. Voi sapete che oggi, come ieri, come sempre, sarà sempre vero che per volontà di Dio la sessualità umana si vive dentro il matrimonio, tra un uomo e una donna e attraverso il seguito di un sacramento. Fuori di queste tre condizioni non è liceo, non lo era, non lo è e non lo sarà, non sono cambiate le cose. Poi però continuano, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, quando stiamo sempre a litigare tra di noi, questo è vivere in maniera cannale, le gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, poi ricomincio, priorizie o altre cose del genere. Tutte queste cose, San Paolo dice, con un'espressione elegante, dice guardate che vi ho già detto che tutte queste cose, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Questo è un modo elegante per dire quello che in maniera meno o meno elegante si dice che il matrimonio del regno ha, al piano di sotto, non erediterà il regno di Dio, significa ereditarne il regno di qualcun altro. E qui entra in causa capire la libertà dei membri della Chiesa. La Chiesa insegna, non basta essere battezzati e fare parte del corpo visibile della Chiesa, occorre farne parte bene, occorre imparare a usare bene i sacramenti, occorre imparare a pregare perché lo Spirito Santo è efficace in noi tanto quanto preghiamo, occorre disporsi ad osservare la legge di Dio, uscire dalla sua legge, occorre essere obbedienti alle autorità della Chiesa, c'è tutto quanto un insieme di cose che porta una persona singola alla santità. Quello che rimane vero è che se uno vuole raggiungere la santità dentro la Chiesa Santa, perché abitata dallo Spirito Santo e sposa di Cristo, trova tutti i mezzi per diventarci. Nonostante, e su questo bisogna che comprendere insomma le miserie umane, la non perfetta coerenza di alcuni suoi membri, che non intacca però la santità della Chiesa, perché ripeto, a chi oppone tanti cristiani che dicono peggio dei pagani, si può opporre, sì, ma tanti cristiani sono diventati santi e nessuno è giunto a quel evento di vita come loro, capite? Quindi questo perché quelli sono diventati santi che provano che lo Spirito Santo ci sciopera nella Chiesa, quelli che danno cattivo esempio provano che la nostra libertà è un fatto reale e se lo usiamo male Dio ci lascia liberi, non la violetta, esatti, noi ci ripetiamo. Chiediamo a Maria Santissima sposta dello Spirito Santo e Madre della Chiesa, sapete che domani festeggeremo, trovate sul pollettino per la prima volta la memoria obbligatoria di Maria Madre della Chiesa, voluta dal Papa in ricordo della presenza di Maria Santissima al giorno della mente poste e per sottolineare la funzione materna che lei incessantemente opera per tutti i suoi figli e la causa grandissima che ha è la santificazione di nessuno di noi. Lei è la piena di grazie, la sposa dello Spirito Santo e quanto più ci si lega e si è devoti alla Madonna, quanto più lo Spirito Santo agisce e opera in noi. Siamo notati Gesù e Maria. Grazie a tutti.